Pugno duro del comune di Ercolano per stanare gli evasuri dell'Atari. Sono circa 900 gli avvisi di diffida per omessa denuncia e solleciti di pagamento che sono stati recapitati in questi giorni ad imprenditori e commercianti della città. Non è giusto che il servizio della raccolta dei rifiuti venga pagato soltanto dalle persone per bene. Sono le parole del sindaco Ciro Buonaiuto in un video postato sulla sua pagina facebook e rivolto alla cittadinanza. Vi tengo aggiornati sulle attività che il comune sta svolgendo per stanare gli evasuri dell'Atari perché non è giusto che il servizio per la raccolta dei rifiuti venga pagato soltanto dalle persone per bene. Continua dunque senza sosta l'attività da parte degli uffici per ridurre le sacche di evasione dell'Atari. Il comune è inviato a tutte le attività commerciali che non sono in regola con i pagamenti questa diffida e se entro 30 giorni non si richiede la ratalizzazione del debito o non si estingue il debito saranno emessi gli avvisi di accertamento e trascorsi i termini di legge arriveremo fino anche a cessare l'attività commerciale di chi non paga. Invito quindi tutti i commercianti, tutti gli imprenditori che hanno ricevuto questa diffida a non sottovalutarla perché come vi ho promesso in questa storia andremo fino in fondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.